La parola di oggi è retrivo deriva dall'avverbio latino retro che vuol dire dietro o indietro quindi la persona retriva è qualcuno che va indietro o che resta indietro riferito in senso figurato a chi si oppone al progresso politico sociale, civile e culturale principalmente lo fa per ignoranza e per inettitudine e quindi ripropone modelli del passato diciamo quindi è un uomo retrivo quello ha idee retrive quella è una classe politica retriva è un governo retrivo per indicare chi è insensibile al progresso culturale e sociale sinonimi possono essere retrogrado o reazionario però con alcune necessarie precisazioni perché le tre parole hanno significati leggermente differenti il retrogrado si limita a disprezzare o ad avversare ogni innovazione è sostanzialmente un pigro il retrivo impiega e cerca di far valere modelli, idee e schemi passati lo fa per ignoranza e per scarsa intelligenza aderisce all'usato opponendosi alle novità non per scelta razionale ma per un impulso di pancia per sprezzante abitudine il reazionario è invece più consapevole della sua azione che anela al ritorno a schemi passati e questo lo fa sostenuto da una forte volontà con la determinazione di chi ha fatto valutazioni di merito ed è risoluto a raggiungere il suo obiettivo con ogni mezzo nel linguaggio comune in realtà i tre termini vengono impropriamente usati come sinonimi assieme a altri termini più generici quali conservatore, tradizionalista, antiquato, antiprogressista avere ben presenti le differenze contribuisce però alla chiarezza dell'eloquio